Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Ennesimo furto al bar a polvere di caffè il titolare è il quinto colpo in pochi mesi ladri provocano danni al locale ma l'assicurazione si tira indietro Attene i carabinieri con la valigia pronta arrestato per spaccio e ricettazione un 43enne residente a Fano Dalla Croazia un carico di pietre per le scogliere di Gimarra saranno pronte entro il mese di marzo L'Alma Juventus Fano batte la Iesina per 1-0 con un gol di Gucci la squadra Granata vicina al secondo posto in classifica a meno 4 dal Matelica Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia apriamo il nostro telegiornale con l'ennesimo colpo che è stato messo a segno in un bar di Via Bellandra a Sant'Orso di Fano pensate che in circa 6 anni di attività il titolare ha subito più di 10 furti rabbia e rassegnazione nelle parole della titolare del bar polvere di caffè a Sant'Orso di Fano per l'ennesimo scempio del suo locale ad opera di ladri che per la quinta volta in poco tempo hanno fatto irruzione nel suo locale sono entrati ma ormai non c'è più nulla da prendere porto tutto a casa ci dice perché ormai non mi fido a lasciar più nulla qui sono entrati alle 23.30 di domenica 21 febbraio le videocamere hanno ripreso tutto sono in tre a volto coperto dopo aver spaccato la vetrata sul retro accanto a quella rotta dai loro predecessori hanno forzato rompendole due porte chiuse senza trovare nulla di cui appropriarsi dopodiché si sono diretti verso il bancone e forzato il cassettino della cassa rubando le poche centinaia di euro del fondo cassa tutto qui il bottino niente sigarette le poche che rimangono nel locale sono blindate e niente grattini che avevano fruttato ai ladri della scorsa volta un bottino di oltre 10.000 euro i danni alle strutture del locale ammontano a 1.000 euro e dopo l'ennesimo furto l'assicurazione ha voluto disdire il contratto e per ora nessun'altra avrebbe intenzione di coprirlo visto si tratta del quinto furto messo a segno in soli pochi mesi e in sei anni di gestione pensate ne contano più di dieci le immagini ora della videosorveglianza sono state acquisite dai carabinieri che indagano sul furto i carabinieri di Fanno hanno arrestato un 43enne di origine campana per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione perché era stato sorpreso con della refurtiva asportata in alcune abitazioni a Fanno l'uomo residente in città è noto ai pendolari che transitano per la stazione ferroviaria atteso i militari con la valigia pronta perché sapeva che la procura di Pesaro aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione infatti deve scontare due anni di reclusione per questo una volta in caserma il 43enne ha chiesto ai carabinieri il favore di inoltrare all'autorità giudiziaria un'istanza di scarcerazione anticipata perché aveva una proposta di lavoro da parte di un'impresa edile fanese alla quale il condannato si era rivolto a tempo debito dopo aver appreso dalle forze dell'ordine che la domanda andava presentata dal suo legale fiducioso ha ripreso le proprie carte e ha salutato con un cordiale arrivederci appresso prima di essere portato in carcere e adesso parliamo della difesa della cossa perché da pochi giorni sono iniziati i lavori per rafforzare le scogliere di Gimarra in quella zona infatti diverse mareggiate hanno provocato danni e disagi a numerosi stabilimenti balneari il servizio di Lino Balestra la furia delle mareggiate in questo tratto di costa un anno fa aveva portato via tutto devastato le strutture balneari divelto i gabbiotti e il mare ingoiato metri e metri di spiaggia e una volta ritiratosi lasciato solo desolazione e sconforto nei bagnini che ogni volta hanno dovuto ricominciare da capo le scogliere artificiali l'unica difesa che l'uomo ha predisposto aveva bisogno di un'operazione di rafforzamento che gli operatori del luogo attendevano da tempo ora da venerdì scorso tutto questo è realtà con grande soddisfazione dei bagnini un pontone sta operando nelle quattro scogliere di Gimarra come operatori di questo tratto di spiaggia siete contenti? certo noi siamo molto contenti chiaramente quest'opera non è sufficiente a tutelare la costa però insomma cerchiamo di andare avanti cerchiamo di procedere anche con nuovi progetti affrontate la prossima stagione con un po' più di serenità certo saremo molto più tranquilli speriamo che la stagione vada bene non ci siano altre mareggiate ringraziamo ovviamente il sindaco e tutti i tecnici comunali gli assessori tutto il comune che ci hanno aiutato molto in questa situazione operatori contenti ma un segnale chiaro di intervento dell'amministrazione? sì anche l'amministrazione è contenta perché abbiamo utilizzato 108 mila euro che erano fondi regionali che abbiamo destinato a questa zona alla Gimarra per il salpamento e per potenziare diciamo rafforzare le scogliere esistenti con diverse tonnellate di massi che vengono dalla Croazia un lavoro molto atteso importante quindi anche se relativamente piccolo rispetto a quello che ci sarebbe da fare ma sicuramente è significativo perché per questa zona di spiaggia che andiamo a sistemare in maniera definitiva i massi 2.500 tonnellate arrivano dalla Croazia mentre altri 6.000 saranno recuperati da quelli caduti in mare per la mareggiata a vincere il bando di gara un'azienda di Chioggia è una ditta già che noi conosciamo perché ha già lavorato per noi in altri interventi di dragaggio quindi è una ditta valida ci siamo sempre trovati bene per cui siamo sicuri che farà un buon lavoro fra l'altro è del mestiere esclusivamente opere marittime per cui siamo caduti bene il 5 febbraio dell'anno scorso qui è stato veramente un disastro questo tratto della costa insieme a tantissimi altri sono stati flagellati dalla mareggiata i danni erano evidenti ora da venerdì scorso ad opera il pontone per il riposizionamento dei massi che darà un po' più di serenità agli operatori turistici per la prossima stagione il prossimo step è Sassonia un corso di laurea in ingegneria civile programmerà la manutenzione delle strade di Fano il protocollo d'intesa con l'Ateneo di San Marino è stato firmato dal presidente del corso di laurea Angelo Marcello Tarantino e dal sindaco di Fano Massimo Seri i lavori di manutenzione interesseranno circa il 10% della rete viaria del comune infatti dei circa 400 km di strade gestite dall'amministrazione l'operazione ne interesserà circa 60 per un importo che si aggira attorno ai 4 milioni di euro e ci sono novità anche per quanto riguarda il bilancio 2016 del comune di Fano perché i cittadini potranno inviare suggerimenti proposte o indicare le priorità all'amministrazione comunale e il nuovo progetto denominato Sbilanciamoci è disponibile sul portare istituzionale del comune e adesso invece torniamo a parlare di sanità perché la scorsa settimana il consiglio comunale di Fano ha bocciato il referendum popolare che era stato proposto dal Movimento 5 Stelle i pentastellati però non si arrendono e daranno vita anche ad una raccolta firme sentiamo il consiglio non è andato benissimo nel senso che abbiamo cercato di confutare quelle che erano le posizioni secondo noi un po' pregiudiziali da parte della maggioranza ma non ci siamo riusciti e quindi anche se in consiglio abbiamo ribadito per esempio che il costo del referendum sarebbe stato zero se solo avessimo trovato 20 consigli comunali ad approvare le delibere perché si sarebbe potuto benissimo accorpare per esempio con quelle delle trivelle e poi l'altra questione che ci sta a cuore chiarire ai nostri concittadini è la questione che riguarda il contenuto del referendum perché questo è il referendum abrogativo primo che si fa nella storia della nostra regione e il contenuto non riguardava la riforma sanitaria ma non voleva riguardare la riforma sanitaria bensì cambiare gli strumenti per allargare in modo più democratico la scrittura delle leggi e quindi ampliare il potere farlo passare dalla giunta al consiglio regionale in cui sono rappresentate anche le opposizioni questo perché per evitare proprio quanto è successo a Natale quando vi ricorderete con la delibera di giunta 1183 c'è stata tutta quella confusione in cui si è inserito anche con abbastanza forza il nostro sindaco chiedendo all'inizio l'abrogazione di questa delibera e poi dopo in modo più delicato chiedendo la sospensione attualmente questa delibera è tuttora sospesa noi pensavamo di aver fornito ai sindaci del nostro territorio degli strumenti da cogliere al volo invece purtroppo per motivi politici o forse più partitici non è stato fatto ecco però la raccolta delle firme non è andata in soffitta non vi arrendete? no certo non ci arrendiamo purtroppo i tempi si dilateranno perché a questo punto la data del 28 febbraio 2016 è troppo vicina quindi non ce la faremo però per l'anno prossimo a livello regionale ci stiamo già organizzando per cominciare a raccogliere le firme tramite i banchetti il Centro Studi Vitruviani invece ha dato vita ad un progetto per diffondere sempre di più fra i giovani la conoscenza della cultura classica vediamo di che cosa si tratta diffondere ai giovani studenti i principi e le conoscenze che Vitruvio il grande architetto romano che fondò le basi dell'architettura attraverso il gioco ora sarà possibile grazie a Vitruvio Docet un progetto elaborato dal Centro Studi Vitruviano di Fano con la collaborazione di un team di giovani laureati in ingegneria edile architettura e archeologia è stata un'idea che avevamo già da un po' siamo tutti nel settore siamo ingegneri architetti, archeologi abbiamo molte competenze riunite qui volevamo sensibilizzare i ragazzi i bambini abbiamo avuto anche esperienze come animazione e tutto quindi ci interessava far passare una passione e l'unico modo è il gioco dove i bambini fanno fanno, si mettono in gioco e quindi imparano più velocemente siamo di questa idea come si veicola il messaggio? attraverso che cosa? allora con materiale che abbiamo realizzato creato abbiamo avuto il supporto della VEC che ha realizzato tutto il materiale abbiamo delle lezioni frontali e poi soprattutto leggiamo il testo di Vitruvio non l'abbiamo tradotto non l'abbiamo semplificato lo teniamo così com'è e piano piano lo commentiamo con i ragazzi ed è molto stimolante e piace ai ragazzi quindi ci fa molto piacere il gioco come metodologia di apprendimento per educare da subito i giovani al concetto di bello e di armonia che nelle nostre città si è smarrito ahimè a favore di un'edilizia espansionistica poco attenta a questi concetti cominciare ai ragazzi dei più piccoli ai più grandi a metterli a immergerli in questo mondo cioè a farglielo vedere a tentare di fargli capire ma l'importante è che vedano vedono si sperimentano su questo girano per la città di Fano guardano quelle cose che possono essere attribuibili a Vitruvio o meno comunque le guardano e spero che qualcosa gli resti dentro e poi per far vedere l'attualità di Vitruvio cioè che non è che siamo un centro di studi particolari dove ci sono dei grandissimi professori che praticamente parlano tra loro mentre il resto del mondo è al di fuori noi siamo immersi nella realtà quotidiana e quindi un immergersi nella realtà attuale e speriamo serva qualcosa e centinaia di volontari si sono riuniti a Loreto per la festa delle proloco delle Marche nella piazza della Basilica erano presenti oltre ai sindaci rappresentanti delle 220 proloco marchigiane che contano più di 18 mila soci volontari e che gestiscono tantissime attività sia individuali che con enti pubblici offrendo un contributo importante all'accoglienza e alla promozione turistica regionale a portare i saluti dell'Assemblea Legislativa delle Marche è stato il Vice Presidente del Consiglio Renato Claudio Minardi che ha ringraziato le tante donne e i tanti uomini che dedicano il loro tempo libero all'attività di volontariato e adesso passiamo al calcio di Serie D l'Alma Juventus Fano domenica scorsa ha battuto al Mancini la Iesina per 1 a 0 con un gol di Gucci al diciottesimo minuto del secondo tempo ora i Granata sono risaliti a meno 4 dal Matelica ma adesso andiamo a vedere i risultati come abbiamo detto Alma Juventus Fano Iesina è finita 1 a 0 Castelfidardo Fermana 1 a 1 Monticelli Chieti 2 a 2 Isernia Minternina 0 a 2 Vispesaro San Nicolò 1 a 0 Giulianova Recanatese 1 a 0 Folgore Agnonese 0 a 3 Campobasso Vezzano 3 a 1 Matelica San Benedettese 1 a 3 al prossimo turno l'Alma Juventus Fano giocherà fuori casa contro il Chieti per quanto riguarda la classifica invece San Benedettese prima con 61 punti Matelica seconda con 51 e al Movimento Sfano terza con 47 punti Fanalini di coda Agnonese con 25 Giulianova con 22 punti dunque le pagelle le pagelle di Sergio Catalani Marco Antonini 6 Camilloni 6 Bartolini 6 e mezzo Lunardini 5 e mezzo De Iori 6 e mezzo così come Torta poi Sivilla 6 e Marianeschi 6 7 per Bucci 6 per Borrelli 6 e mezzo per Ambrosini Marconi 6 senza valutazione Gregorini e Verroschi l'allenatore Alessandrini in mister ha avuto un bel 6 una sufficienza Prima dell'inizio della partita dell'Alma Juventus Fano con la Iesina domenica scorsa lo stadio Mancini di Fano il sindaco Massimo Seri accompagnato dagli assessori Caterina del Bianco Carla Cecchetelli e Cristian Fanese ha simbolicamente consegnato le chiavi della nuova sede del club Forza Alma e della tifoseria Fanese nelle mani del presidente Elmo Santini la sede è stata ricavata all'interno del mercato ittico all'ingrosso di Viale Adriatico e diverrà un luogo d'incontro per tutta la tifoseria Granata nonché archivio di tutto il materiale storico che il club ha raccolto nel corso degli anni e vi annuncio anche che giovedì 25 febbraio torna primo cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri potrete inviare le vostre segnalazioni al 338 49 68 250 oppure mandare una mail a redazione chiocciola occhioallanotizia.it e con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale che torna puntuale domani sera alle ore 20 e 30 grazie per la vostra attenzione arrivederci grazie per la vostra attenzione